E' sicuramente un 2012 da incorniciare per la società del presente Massari ricco di trionfi su strada che sul terreno argilloso delle competizioni di mountain bike e nell'anno che va a spegnersi la cicli Massari ha disputato circa 70 gare tenendo testa ancora una volta alla tradizione che vuole i corridori iblei, sempre ai vertici delle varie competizioni classifiche e regionali non solo. Per quanto riguarda in particolare le corse su strada il 2012 è stato contrassegnato da molte luci e poche ombre e ancora una volta mettersi in vetrina oltre a Capitan Canzonieri anche Gianni Belluardo e Carmelo Di Pasquale spesso vincitori sia a livello regionale che in ambito interprovinciale. Un bilancio dunque assolutamente positivo e che deve servire comunque per cercare di migliorarsi ulteriormente. Poi c'è anche il futuro che la società ragusana vuole costruire intorno al progetto saranno campioni e già in quest'ultimo periodo dell'anno si sono stati giovani elementi che si sono messi in luce ma che dovranno andare a formare l'ossatura della futura cicli Massari.